cari quaddisti buongiorno ed eccoci a voi veramente ce la facciamo più comunque abbiamo avuto parecchi problemi di utenti che hanno rotto la ruota libera dei mezzi di quadricicli indipendentemente dalla marca la ruota libera funziona sempre nello stesso modo per tutti poi con i marchi magari un po più deboli altri marchi non è così deboli ma comunque diciamo che è un pezzo che si rompe spesso allora abbiamo pensato di farvi un video articolo per indicare agli utenti quali siano i passi da fare per la sostituzione della ruota libera di un quad ce l'hanno anche le moto la ruota libera la stessa cosa però molti ci chiedono se possono cambiarsela da soli e quindi insomma meglio che facciamo sto video così siamo tutti contenti e uno poi fa i suoi conti se sia in grado di farlo o meno allora in questo caso stiamo lavorando su un nostro mezzo preparato a gara un 4 e 50 da competizione da cross e vi facciamo vedere dove è situata la ruota libera attenzione perché la ruota libera è dove sempre dove c'è l'accensione ok l'accensione però alcuni motori ce l'hanno a sinistra altri motori ce l'hanno a destra quindi non è questo è il motore questo è il nostro motore il nostro motore la ruota libera c'è la sinistra quindi svitate i bulloni che tengono questo coperchio il coperchio dove è situato il vostro volano di solito lo riconoscete perché ha questo che è la verifica del dado di tenuta del volano lo vedete ecco quindi lo smontate smontandolo vi verrà fuori anche quello che è lo statore interno cioè quello che crea l'energia al mezzo quando lo smontate se chi l'ha montato ha usato la testa eccolo lì e ha messo il grasso sulla guarnizione la guarnizione non si romperà come vedete potete smontato centinaia di volte senza minimo problema se chi l'ha montato ha messo la guarnizione a secco chiaramente dopo due anni tre anni quattro anni che una guarnizione schiacciata tra due pezzi di alluminio è chiaro che la guarnizione quando la staccate metà rimarrà di la meta resterà di qua e si romperà quindi dovrete cambiare anche questo comunque statore coperchio carter lo svitate non arrivate a rompere il cazzo il motore attenzione perché entrate questo è sempre in bagno d'olio per cui svitando ovviamente perderete l'olio vi consigliamo di svoltare l'olio del motore prima questo è il motolino d'avviamento però che lo vediate eccolo questo è il pioncino del motolino d'avviamento è un pioncino doppio tiriamo via il distanziale il perno è quello che sto che voi vedete il pioncino doppio c'è una corona grande per il pignone del motolino d'avviamento che qua la corona che si aggancia e un altro ingranaggio più piccolo che va a prendere la di i denti della ruota libera dovete mettere il termo centramo già è una cosa un po difficile da farsi speriamo di poterlo fare a questo punto tirata via il pioncino arrivate adesso per tirare via questo pioncino bisogna tirare via il motolino d'avviamento cioè spingendo in fuori comunque questa è solo una caratteristica del modello magari nel vostro si sfida direttamente questo è il volano magnete questo è l'albero primario l'albero di biella questo è il dado di serraggio e queste sono le prese per l'estrattore per sfidare il volano magnete allora voi dovete avere l'estrattore ogni mezzo ha un estrattore diverso puntate la farti centra prima sbittate il dado poi puntate la parte centrale l'estrattore avvitando su questo filetto spingete con l'estrattore e vi viene a fare il tutto il la ruota libera l'ingranaggio della ruota libera lo vedete corona ingranaggio di solito vengono finuti vengono venduti in pezzo unico sono attaccate al volano con 1 2 3 4 5 6 questi sei bulloni quindi voi sfidate tutto oppure se volete sfidate sfidate prima sfidate arrivata la ruota libera la togliete sostituite la ruota libera non si può fare niente quando la ruota libera va si rompe va sostituita riagganciate i tanti i quattro brugoloni battete in sede il volano ricordate che il volano ha una chiavella quindi non correte rischio di perdere l'allineamento che era l'accensione e poi richiedete il vostro carter tirate con i dadi di sarraggio propri e richiedete il vostro da il vostro carta è importantissimo le coppie di serraggio sono importantissime le coppie di serraggio di questi bulloni se si svitano questi bulloni fanno un macello ma un macello quindi oltre le coppie di serraggio vi consigliamo anche l'octite dura attenzione l'octite dura ragazzi quindi il lavoro è abbastanza semplice però non è nulla di complesso ma non bisogna sbagliare niente state lavorando proprio nel cuore del motore state attenti a questi cablaggi e adesso per esempio abbiamo sganciato questo ci è andata leggermente avanti la corona del ruota libera dovremo ritirare fuori il mutilino d'avviamento riposizionare l'ingranaggio infilare il perno e poi poter richiudere signori d'acqua disti punto it questo prodottino acce stretto 450 motore preparato da noi best della natura 50 un saluto dal ferro e spero che questo questo video articolo abbia fatto chiarezza se possiate o meno essere in grado di sostituire la vostra la ruota libera del vostro mezzo signori un saluto dal ferro squadra corso quadristi punto it ciao